A scuola per diventare custodi dei fiumi. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha infatti riunito tutte le imprese agricole iscritte all'albo, circa 140. Ad esse si farà riferimento per realizzare il piano delle attività di bonifica 2024, circa 13 milioni di euro di lavorazioni da eseguire sui corsi d'acqua entro il 31 dicembre. È una giornata importante perché l'attività che fa il Consorzio è un'attività che insiste sull'ambiente, è un'attività che ha una serie di complessità di cui bisogna tenere ne conto. Queste complessità sono in relazione sia alla sicurezza idraulica, che è il fine principale della nostra attività di manutenzione, sia a riguardo a quelli che sono gli impatti di natura ambientale sugli ecosistemi fluviali che la nostra attività ha. Per cui diventa importante queste giornate per indicare agli operatori economici e anche agli stessi tecnici che collaborano con noi quali tecniche seguire, come approcciarsi alle lavorazioni in modo da contemperare questi due aspetti, che sono, come dicevo, la sicurezza e la qualità ambientale. A questo si aggiunge quest'anno un cambiamento radicale per quanto riguarda le procedure, chiamavano le borratiche degli affidamenti, entrando in vigore una serie di informatizzazioni a valere per tutte le pubbliche amministrazioni, per tutti i lavori pubblici, a cui anche le imprese agricole sono tenute a rispettare. Le imprese per noi sono a tutti gli effetti delle sentinelle nel territorio. Si è installato un rapporto reciproco scambio che consente un monitoraggio dei 1.500 e passa chilometri di corsi d'acqua che abbiamo, che altrimenti sarebbe difficilmente perseguibile e fattibile con i soli mezzi del Consorzio.